Ha presentato un'interrogazione al Ministro Alfano sulla ipotesi di una costruzione di una moschea a crema? Ma che purtroppo non è un'ipotesi, io ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno perché la Giunta del Comune di Crema ha deciso attraverso una delibera di insediare una nuova moschea, non si sa ancora di preciso dove, come e quando. Quello che io chiedo al Ministro dell'Interno, vista la delibera della Giunta di Crema, come farà il Ministro dell'Interno e per cui le autorità di pubblica sicurezza e di intelligence ad assicurare che in quel nuovo centro islamico non ci siano atti di fondamentalismo come già accaduti in altri luoghi di questo tipo. Ciò non toglie che noi vogliamo evitarla e la sezione della Lega Nord di Crema sta facendo una grande battaglia per evitare questa cosa che sarebbe veramente un danno nei confronti di tutti i cittadini e un rischio dal punto di vista della sicurezza.